Musica Buonasera a tutti ragazzi siamo ancora noi Giù per Youtube Rieccoci qui su FIFA 15 Pronti per simulare il nostro Super mega 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 big match La prima contro la seconda Roma Juve Roma Juve Roma Roma Juve Juve contro Roma ragazzi La Juve in two stadium La Juve si presenta con la formazione Titolarissimi a parte Pirlo Ragazzi che è ancora indisponibile E la Roma Lo stesso la stessa formazione schienata Manchester con Gervinio e Turbio e Totti Ad avanti la ingolam Pjanic Keita col Yanga Miwa Manolas Maicon e poi De Santi si importa Vedremo chi si prenderà la testa della classifica O se rimarranno ancora a pari punti Dopo un pareggio ovviamente ragazzi Vediamo la Juve ovviamente è favorita Perché gioca in casa Nello Juventus Stadium Ma la Roma viene dalla ottima prestazione Con il Manchester City E incomincia subito il match La Roma che batte il caccio di inizio Che attaccherà da destra verso sinistra Mentre la Juve ovviamente è l'opposto Allora call Subito per Totti Vediamo se il pupone Riuscirà a segnare un'altra volta Dopo aver segnato anche Al Manchester City in Inghilterra Dove non aveva mai segnato Ancora Totti Dietro per call Subito aggressiva La Roma Gli uomini di Garcia Intanto palla però Persa e recuperata da Pogba Tevez Tevez è un po' isolato Vediamo se riesce a servire Pogba Proprio lui Pogba Palla per Gliorenti Che non arriva Sbagliato il movimento dello spagnolo Allora subito Gervinio Che si mette in moto Attenzione alla velocità di Gervinio Sulla sinistra Gervinio Vuole fare tutto solo Attenzione Gervinio Va via Dubon Entra di rigore Dentro per Totti Fermato Palla rilanciata Attenzione Gliorenti E stop Un po' maldestro Naigolan Subito il pressing della Roma Si fa sentire Yanga Miwa Per Maicon Sulla destra Non ha molto spazio Chiuso da due giocatori Della Juve Pjanic Attenzione Pjanic Si fa ancora palla Pogba Vidal Giro palla da Juventus Per via centrali Pogba Si fa rubare palla Un'altra volta Attenzione Pjanic Gli uomini di Garzia Sono subito aggressivi Attenzione a Totti Lo stesso movimento Contro il Manchester City Però viene chiuso Dal difensore della Juventus Da Bonucci Attenzione Bonucci Intanto brutto Fallo su Lui Steiner L'Abitro ha dato il vantaggio Marchisio Marchisio per Tevez Per Vidal Dentro per Gliorente Un po' isolato Contro tre giocatori Della Roma Ma perde palla Era Maicon Maicon Per Manolas Dentro per Nengolan La Roma Tiene il pallone Call sulla sinistra Vuole servire Gervinio Attenzione Gervinio Se ne va via Gervinio Scarta Ottimamente Lui Steiner Gervinio Gervinio Attenzione per Manolas Che si infila La destra di Buffon 1-0 Roma 1-0 Roma Dopo 17 minuti Attenzione perché la Juventus Non ci sta Tevez per Evra Evra Attenzione i numeri di Evra Fermato da Pjanic Ma ancora Tevez Presta e recupera La palla Marchisio Liorente Dentro per Evra Evra Fallaccio Di Paul Che rischia Il secondo giallo Attenzione però Vidal Per Liorente 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 Tevez Subito Carlos Tevez Subito La Pash 20 minuti 1-1 Partite incandescente Allo Juventus Stadium 1-1 Ragazzi Dopo 20 minuti Siglati da Totti e Tevez Forse i due uomini Più rappresentativi Delle rispettive squadre Attenzione però Gervinio Non ci sta Cross in mezzo Non c'è nessuno Che emozioni Questa via di gara Allora Liorente Tiene palla Fatica Forse con un fallo L'abito dal vantaggio Tevez Tevez Un po' di spazio Viene chiuso però Raddoppiato Pogba Pogba Attenzione L'Iksteiner Non ha nessuno Che lo pressa Arriva poi Yanga Miwa Grande chiusura Del francese Attenzione però Ancora la Juve Che pressa Con Marchisio Al limite Della rigore Giro palla Su e bra Sulla destra Marchisio ancora Attenzione Marchisio Se ne va via Tra due uomini Liorente Il tiro È una mozzarella Che De Santis Fa sua Allora Lancia subito Per i turbe I turbe Keita Totti Totti Fa viaggiare Nengolan Attenzione Nengolan Nengolan Se ne può andare Nengolan Nengolan Vuole entrare di rigore Nengolan Nengolan Il tiro di Nengolan Buffon Si salva In qualche modo Alla palla Campanile L'Iksteiner La prende Ma Michael La recupera Attenzione Michael Non ha spazio Non ha uomini Da servire Allora prende Keita Keita Sbaglia Ma il pallone Passa Attenzione Pianici Il tiro Rimpallato Dal difensore Della Juventus Da Bonucci Alla Buffon La fa sua Al trentesimo Allora Rilancio lungo A cercare Sicuramente Tevez Tevez Stacca di testa Per Marchiso Palla troppo lunga Però La recupera Chiellini Attenzione Però Un rimpallo Favorisce Pogba Attenzione Pogba Sulla faccia sinistra In mezzo Per Vidal Liorente Liorente Contro De Santis De Santis Si salva In calcio D'angolo Ottima L'azione Da Juventus Palla In mezzo E poi Propaginità Per Liorente Che spalla Su De Santis Allora Il cross Per Evra Che arriva Di testa Ma non riesce A indirizzare verso la porta La palla Attenzione Rivediamo Abbiamo rivisto il fallo Per la munizione Di Ashley Cole Gervinio Intanto Totti Totti Fa viaggiare Keita Keita per Pjanic Attenzione Pjanic Poteva servire Sulla destra Maicon Ma non ce l'ha fatta Attenzione Pjanic Se ne va da solo Il tiro Di poco a lato Che occasione Per Milan E Pjanic Ha scadratto Tutta la difesa Della Juve Però ha concluso a lato Che occasione Per la Roma Per ripassare in vantaggio Dopo 35 minuti Allora Buffon Lancio lungo Sbaglia però A cercare Tevez Che non arriva sulla palla Pjanic Pjanic Si fa rubare palla Ingenualmente L'Iksteiner L'Iksteiner Non ha molto spazio Si rifugia da Tevez Tevez In mezzo a tre uomini Della Roma Non riesce a far passare palla Allora Maicon Rinvio lunghissimo A cercare Totti Vediamo se stacca di testa Il capitano Ce la fa Ma la palla è persa Allora Vidal Dentro per Liorente Liorente fa correre Tevez Tevez ancora per Liorente Attenzione Liorente Liorente Per un palo su Liorente E Vidal Non fa altro che Trasformare Questo penalty Dalli 11 metri Allora la Roma Vediamo se gli uomini Di Rudy Garcia Riusciano subito a reagire E subito A portarsi al pareggio Palla lunga per Gervinio Gervinio Attenzione Lo stop Ottimo Arriva Gwonna Che riesce a rilanciare Allora Pogba Pogba per Tevez La Juve vuole tenere palla In questo finire di primo tempo Vidal Licksteiner Sulla destra Attenzione Licksteiner Dentro per Marchisio Lancio Vidal Attenzione Vidal Dentro per Licksteiner Vuole il cross in mezzo Palla per Tevez Che ovviamente Non arriva di testa Allora Totti Vediamo forse Una delle ultime occasioni Per la Roma In questo primo tempo Gervinio Forse spinto Non fisca l'arbitro Non fisca un fallo Allora Pogba Dietro per Chiellini Giro pala della Juve Attenzione però Chiellini si addormenta Nainggolan Nainggolan Le la ruba Nainggolan Nainggolan Entra in rigore Nainggolan Raja Nainggolan Al 45 La pareggia lui La partita 2 a 2 Dopo 45 minuti Che ingenuità Di Giorgio Chiellini Nainggolan Ne approfitta subito E insacca la destra Di Buffon Con un tiro fraiciso Che il partire da Juventus Riesce solo a sfiorare Attenzione però Ormai siamo in conclusione Il primo tempo La Juve ci crede ancora E ora si riuscirà a fare Un'ultima azione Offensiva Palla persa però Malamente Allora Totti per Gervinio L'Ikstein però Gli prende un tempo E lo chiude Tanto Finisce qui il primo tempo Finisce qui il primo tempo 2 a 2 Tra il Roma e Juventus Un pareggio che dimostra La forza Delle due squadre Che È quasi identica Ragazzi 2 a 2 Totti e Nainggolan Per la Roma E Gli Orente E Tevez Scusate E Vidal Per la Juventus E riparte subito Il secondo tempo Con Gli Orente Subito in portapalla Per l'argentino Tevez Gli Orente Gli Orente Dentro per Vidal Attenzione Vidal Il tiro è sballato Subito Un'occasione Per Gli uomini Di Allegri Per ripassare in vantaggio Allora Maicon Intanto i turbe Totti Totti Capitano Fager palla Per Pjanic Pjanic Attenzione Non ha spazio Non ha neanche Giocatori a cui servire La palla Intanto Marchisio Serve Tevez Attenzione Tevez è isolato Contro due giocatori Della Roma Serve Vra Ma sbaglia Incredibilmente francese Allora Rimessa laterale Per la Roma Manolas Per i turbe I turbe Un po' di spazio Vuole correre Macchellini Lo anticipa sul tempo Allora la Juve Ancora Palla persa Ma recuperata subito Da Vidal Vidal Per Ogbonna Ogbonna Fa girare su Marchisio Marchisio Per Gli Orente Gli Orente Si vuole girare Ancora Marchisio Si chiude il triangolo 3-2 Vidal Marchisio Ottimo Giro palla da Juventus Tevez Attenzione Palla per Gli Orente De Santis Esce E travolge Gli Orente Ma non c'è fallo E' andato direttamente Sulla palla Il giocatore della Roma Allora Gervinio Attenzione Gervinio può partire Vediamo Marchisio non lo tiene Gervinio Spallata Incredibile Marchisio Gervinio Attenzione Però Gervinio resiste Gervinio è rigore Gervinio per Pjanic Mirale Pjanic 3-2 Per la Roma Grandissima azione Gervinio Che ha spaccato In due la difesa Dalla Juve Ha servito Pjanic Che non ha fatto altro Che mettere la palla in rete E ora siamo 3-2 3-2 Allo Juventus Stadium Per la Roma Risultato incredibile Inaspettato All'inizio della partita Allora la Juve Non ci sta Subito che vuole reagire Con Vidal Sulla destra Per Evra Attenzione Evra Dentro per Vidal Un po' Sbilanciata la Roma Qui Tevez 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 Il tiro A lato di pochissimo Che occasione Intanto le prove tutte Allegri Dentro Morata Fuori il Llorente Non cambia praticamente Niente Però vediamo se Morata Riuscirà a dare qualcosa In più All'attacco Della Juventus Che oggi È stato letale Ma solo in due occasioni Ah Gervinio Gervinio Ancora Uno dei migliori in campo Fino a questo momento Marchisio però Recupera palla Marchisio Attenzione Per Evra Palla un po' lunga Ma riesce a recuperare La francese Tevez Tevez Ottimo Il dribbling Tevez ancora Morata Appena entrato Morata Morata Palla per Evra Perde palla Malamente E allora la Roma Riparte con Gervinio Attenzione alla velocità di Gervinio Al 61esimo Gervinio Buona non lo tiene Gervinio Gervinio Ancora Ancora lui Gervinio Attenzione Attenzione Il dribbling di Gervinio Entra nella Gervinio Totti Il tiro Non ci arriva Ancora Buffon Due miracoli Uno su Totti Uno su Pjanic Che portiere Difende Fino alla fine La sua porta E siamo ancora 3 a 2 Per la Roma Ma la io vede Per forza segnare Per riempire Lo svantaggio Allora Pogba Pogba Se ne va Manolas Va in pressing Su di lui Morata Attenzione Ancora Pogba Pogba Vuole mettere la palla in aria Di guarda Attenzione Una scivolata Incredibile Quasi Rischia rigore La Roma Allora Pjanic Ripartenza della Roma Pjanic Prova il dribbling Ma non riesce Allora Totti Ancora Ricora palla Pjanic Aspetta i Turbe Lo serve I Turbe I Turbe più veloce Attenzione Ottimo il dribbling Su Chiellini I Turbe entrare Il rigore I Turbe dentro Palla per Buffon Buffon Ancora su Totti Non si passa Non si passa Che miracoli di Buffon In questi ultimi minuti Prima su Pjanic Poi su Totti Ancora su Totti Due volte Che miracolo Di Gianluigi Buffon Allora I Turbe Perde la palla La Juventus Riparte Con Asamoah Sulla sinistra Appena entrato Al posto di Evra Asamoah Ancora Fallaccio di Turbe Che lo stende Probabilmente Cartellino giallo Per lui No L'arbitro lo grazie In questa occasione Allora Calcio di punizione Per la Juventus Rubata i Chiellini Vedremo se La batterà dentro Attenzione no Palla per Asamoah Attenzione Asamoah Si fa rubare Palla dai Turbe E commette fallo Occasione sprecata Per la Juventus A 72 Pjanic Dentro per i Turbe Vediamo i Turbe Va per via centrali Da Totti Totti Vuole girarla Ma si mette in mezzo Pjanic Attenzione Sbaglio clamoroso Dei giocatori della Roma Che ci sono saccola di avvicenda Però subito recuperata Da Nainggolan Il solito faticatore In mezzo al campo Ancora Nainggolan Tiene palla Yanga Miwa Per call Sulla sinistra Gervinio Gervinio Vuole 1-2 con Pjanic Attenzione Pjanic Lancio lungo Sballato però E palla che finisce Infra laterale Con le mani di Marchisio Attenzione Marchisio Licksteiner Licksteiner Attenzione Dentro per Tevez Tevez Ottimo il dribbling Pogba 3 contro 3 Attenzione a Samoa Però la Juve La Roma è già Sistimata Morata Morata Vuole la palla dentro Per Pogba Attenzione il tiro A lato di pochissimo A lato di pochissimo Un'altra occasione Per la Juve Un'altra occasione Per Pogba Intanto cambio Disperato Allegri Mette dentro Pepe Per Marchisio Vediamo se la Juve Riuscirà a mettere Più cross Con Pepe Ed arrivare più facilmente In area di rigore Della Roma Licksteiner Dentro per Tevez Attenzione Per Morata Non arriva sulla palla Maicon la spazza via Senza sentire ragioni Totti Ancora Pogba Ancora la Juve Che pressa Palla per la Samoa Sulla sinistra Dentro per Vidal Vidal non ha molto spazio Si rifugia da Pepe Pepe Chiuso Ottimamente da Maicon Che non riesce ad evitare Il palo laterale Alla Pepe Con le mani per la Samoa Palla però Recuperata dalla Roma Totti Totti La tiene Ottimamente Lancia un gope di turbe Attenzione i turbe Potrebbe andarsene Contro la Samoa Attenzione i turbe Ancora lui Voleva La Veronica Ma non c'è riuscito Dato guadagna Un calcio d'angolo Preziosissimo Per gli uomini di Garzia Alla palla dentro Palla per Gervinio Che non arriva di testa Ancora col Il tiro di col Attenzione Andava proprio sotto L'incrocio Ma Buffon La toglie Dal 7 Grandissima La parata di Buffon Uno dei migliori Forse i migliori In campo di questa partita Anche se la Juve Ha subito 3 gol Tanto un giocatore Rimasto a terra Da parte della Juventus Ma si continua Con Pepe Pepe Attenzione Può correre Ottimo il dribbling Pepe dentro per Morata Attenzione Morata De Santi Si salva Che occasione Un'altra per la Juve Allora Gervinio Vediamo se tiene palla Livoriano Attenzione Gervinio Ottimo il dribbling Vuole rientrare Vuole tagliare tutto il campo Come in occasione Del terzo gol Della Roma Attenzione Gervinio Chiuso da Buffon Però Providenziale L'intervento dell'italiano Alla Pepe Sulla destra Ancora Pepe Vediamo se prova A crossarla Sbaglia però Il passaggio Ultimi minuti Novantesimo Scoccato ormai Solo recupero Vidal Ultima occasione Per la Juve Tevez Dentro per Pepe Attenzione Pepe Il tiro De Santi Si salva In cancio d'angolo Attenzione Ultima occasione Tutti su Tutti su Per la Juve Vediamo se la Roma Riuscirà a resistere All'ultimo attacco Palla dentro Rilanciati in avanti Da Maicon Totti Totti La rilancia via Senza sentire ragione Attenzione Potrebbe addirittura Segnare il 4 a 2 Ma finisce qui Finisce qui Allo Juventus Stadium 3 a 2 Totti Nengolampianic Per la Roma Roma batte Juventus 3 a 2 Allo Juventus Stadium E si Fissa da sola A 18 punti Prima in campionato Incredibile Gli uomini di Garzia Hanno fatto l'impresa Eh ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Mettete un piacere Commentate Condividete Fate tutto quello che avete Come al solito E ci vediamo al prossimo Vino dopo ragazzi Woohoo